Ambra Angiolini è voluta intervenire dopo che una signora ha attaccato l'ex compagno Francesca Renga via social. La donna ha infatti commentato con parole poco carine una frase detta tempo fa dal cantautore 56enne, padre dei due figli dell'ex Stella D, non è la Rai. Lo ha accusato di essere, sdolcinato, nei confronti della 47enne dopo averle, fatto la guerra, in passato. L'attrice Evolto TV ha quindi replicato e tra le altre cose ha sottolineato di non aver mai ricevuto assegni di mantenimento. Signora, mi dispiace distruggere la sua giornata con una notizia. Non ci siamo mai fatti la guerra, non ricevo assegni di mantenimento, abbiamo scelto di non stare più insieme e ci rispettiamo, ha scritto in replica al commento. Lei sa cosa significa la parola, pace, e quel diritto che tutti stiamo invocando, ma che nessuno riesce a mettere in pratica nemmeno nelle proprie vite, soprattutto sui social, ha poi aggiunto. Ambra e Renga ormai da tempo mostrano pubblicamente di avere un rapporto molto stretto nonostante la separazione. I due sono stati una coppia per una decina d'anni fino al 2015. Insieme hanno avuto due figli, Yolanda, che ha 20 anni, e Leonardo, che ne ha 18.